Questi giorni sono stati caotici, sfiancanti, tra ris di ragazzini, oggi elicotteri, polizia in centro, tutto il resto, ma non parliamo di quello, non ci interessa, vedrete, i video parleranno loro, basta. Abbiamo fatto uscire un nuovo brano dove io canto, spero che vi possa piacere, ho dato l'esclusiva in questo momento solo a Radiolina Contest per ascoltare il nostro brano, se volete potete guardare la nostra pagina dentro appunto il Radiolina Contest e praticamente se volete potete mettere un cuoricino, che sarebbe un like, sulla pagina nostra, si trova sopra la foto. Poi c'è la foto, poi c'è la biografia, area fritta, e poi c'è il player della canzone. Quindi, fino al 15 c'è la possibilità di darci un voto, più voti ci date e più la possibilità, non è che ognuno dà due o tre voti, no, c'è il cellulare, metti il cuoricino e praticamente riesci a votare. Se lo ridai, lo togli, se lo rimetti, lo rimetti. Quindi, state attenti, non è che si possono votare più volte, cioè, se hai 293 computer, magari riesci a fare tu da solo, fanno 293 voti. Poi che fai? Magari svuoti la cache, fai il riavvio, e niente, hai di nuovo la possibilità, ma non c'è nessuno che fa questa cosa. Quindi, voi, che siete da soli, fate il vostro voto, se vi piace, e ci fa molto 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 piacere. Vi metto il brano in sottofondo, perché è così. Niente, buon proseguimento e buona settimana prossima. Niente, buon proseguimento e buona settimana. 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 We'd better get away from this land Solo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.